E' la snob a tutti Samiri e Samiri Benvenuti in questo nuovo video Finalmente dopo quattro mesi che non esco di casa Esco e vado al bar finalmente Io ancora ancora non ci credo Perché mi sembra da tanto che non esco Non so mi farà molto molto strano di uscire di casa Perché appunto Forse non so cosa ci fa un profumo dall'uomo E' il mio burro Questo è il mio profumo ragazzi Ma che l'ho rubato a mio papà Ma vabbè dettagli A parte che non lo usavo manco più Oddio mi manca tanto la scuola E' rega sono una che manca tanto la scuola Comunque A parte questo Giuro Cioè giuro Sono molto carica per questo day Allora Innanzitutto sbiracciamo un pochettetto Cosa abbiamo qui nella borsa Perché questo in realtà E' il mio caricatore per l'iPhone Ma A quanto pare E' solo Per me diciamo che Questo Questo Lo utilizzo Soprattutto quando Non ho un cavo per l'iPhone A presto Quindi No Questo E' il cavetto Che Dovrò mettere un po' a posto Qui Nella mia borsa C'è un casino totale E' niente Poi Il rosetto Che è vero Mi ha regalato Più Il burro cacao Più Più la crema Più una spazzola Da viaggio Adoro tutto ciò Ma non trovo la mia chiave Ops Dove l'ho messa Oddio Oh se lo sento Sono le mie monete E cavolizia Chiuso Fammi guardare E niente Allora raga Io sono molto carica Finalmente l'ho trovata Pensavo di aver perso le chiavi Mannaggia Se perdevo questi No Non Non vi perderei mai Comunque sono chiavi di casa E bisogna tenerli Io non le voglio Allora ragazzi Sto aspettando papà Però Se non si muove Giuro E Niente Sono molto contenta Così ragazzi Mi sentite Mi sentite Ditemi nei commenti Scusate se questo audio Duderà un po' più del solito Ma è la mia preparazione Il mio rossetto di calco Sì sì Sto arrivando Ora penso di mettere La mascherina E niente Allora Adesso Vediamo E niente Il mio rossetto di calco Il mio rossetto di calco Il mio rossetto di calco Sì raga Già non respiro Con l'uomo Aiuto Ma raga Ma che ingiustizia Dobbiamo ancora Mettere le mascherine Già non respiro Sto coso Cioè Allora Dobbiamo Dobbiamo dire Che questo coso È assurdo Ma perché c'è stato Sto coronavirus Io odio il coronavirus Scusa ma come cavolo L'hai messo Oddio mi fa strano Oh ma non sono gli occhi Pensavo Allora raga Non so se mi capirete Perché Aiuto Perché Praticamente Avendo la mascherina È ovvio che poi dopo Non mi capite Poi devo Coprire Sia naso Che bocca Quindi Ah poi raga Avete sentito La storia Delle persone Che se ne sono andate E così Senza la mascherina Ma stiamo scherzando Dovete mettervela Io l'ho messa E non sto più respirando Aiuto E niente Papi Ah no Ho già infilato la camera De posso? non lo posso manco più levare aiuto niente finalmente si esce questa è la mia felicità dopo 60.000 ancora non ci credo che si esce però veramente rega con sta mascherina non riesco più a respirare comunque la snob no che ho già fatto l'introfrio che scemo e niente non so neanche se sarò in grado di togliermela perché me l'ha messo babbo non ho mai messo una mascherina in vita mia ma ok oddio c'è un fantasma dietro non è che mi ha messo una mascherina bu aiuta vi dirò se farcela ovviamente Valla nang isa? Scusate Si asce? Ciao casa Io ecco Sono troppo felice No cazzo Scusate Parolaceno Cambiamo Scusate 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 Non è un po' Non è un po' E ovvio Si si alzano C'è non è un po' L'alizzo Sì ragazzi non so ne manco se mi capite perché veramente è un casino Sì quest'altro problema è nell'altro vado a cavoli vero non posso non ho neanche i guanti Ok forse ci siamo tutti è un po' girato questo Sì è troppo felice Si esce e si va al bar Andiamo Grazie Prego Grazie Oddio Incrocio incrocio per strada incrocia la vita Oddio 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 E vabbè, dopo questa cosa sicuramente non uscirò mai, ovviamente con gli amici. E niente, sono le 17.04. E niente, sono le 17.04. Io odio andare con la mascherina. Spero che finisca tutto sto virus perché non ce lo faccio più. Eccoci, siamo arrivati. Buongiorno. 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 Grazie a tutti.